Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato ed egli disse loro venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po' erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare allora andarono con la barca verso il luogo deserto in disparte molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero sceso dalla barca egli vide una grande folla ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose parola del signore carissimi amici di lacrime d'amore tv ben trovati. Nel giro di questa domenica ci presenta ancora una volta la misericordia del padre la compassione del padre c'è un Dio che ha un cuore grande e questo cuore grande ha una realizzazione terrena è il suo figlio Gesù infatti noi vediamo qui un Gesù cuore grande del padre che si prende cura di quelli che ama non solo dei vicini i suoi discepoli i suoi apostoli ma anche dei lontani della folla infatti tutto il brano del Vangelo di Marco che ci viene presentato in questa domenica è un brano che ci parla di compassione di amore di presa di cura di di attenzione di sguardi che vanno oltre ciò che si vede di chi ha una sola preoccupazione il tuo bene questo è Gesù Gesù ci rivela il cuore del padre che ci ama d'amore infinito e ci ama d'amore infinito non solo nelle grandi cose ma anche nelle piccole cose del quotidiano la prima cosa che Gesù fa qual è intanto riunisce attorno a sé cioè fa sentire la sua presenza qui possiamo dire che troviamo l'eucristia dominicale signore ci riunisce attorno a sé e cosa accade quando ci riunisce attorno a sé attorno alla mensa innanzitutto ci chiama a riposare venite a me voi tutti che siete affaticati oppresse io vi stererò ascoltiamo un altro brano del Vangelo qui Gesù ai suoi che hanno faticato che sono andate ad annunciare ora li riunisce e li invita a riposare ma il riposo non è un riposo passivo ma diventa un riposo attivo perché perché attorno a quella mensa non si ci può fermare bisogna poi ripartire nella carità nel prendersi cura allora la mensa eucaristica diventa per noi cristiani il luogo del riposo ma anche il luogo della ricarica perché questo cuore compassionevole del padre che si rivela nel figlio Gesù arrivi a tutti i luoghi nell'eucaristia tocchiamo ancora una volta questo amore che ci guarda ci guarda con occhi compassionevoli e ci svede come pecore senza pastore e ci invita a fare una cosa essenziale pregate perché il Signore mandi operai nella sua messa buona domenica a tutti voi buona domenica a tutti buona domenica a tutti buona domenica a tutti buona domenica a tutti Grazie a tutti.